Quando fumo alla porta della camera, lui mi spinse dentro e serrò la camera chiave e dopo serrata mi buttò sulla sponda del letto dandomi con una mano sul petto, mi mise in ginocchio fra le cosce che io non potessi serrarle ed alzandomi li panni mi mise una mano con un fazzoletto alla gola ed alla bocca a ciò non gridassi ed avendo esso prima messo tutti doi li ginocchi tra le mie gambe ed appuntandomi il membro alla natura, Cominciò a spingere e lo mise dentro che io sentivo che mi incendeva forte e mi faceva gran male, pure cercavo di strillare meglio che potevo e gli scraffignai il viso e gli strappai i capelli, Con tutto ciò lui non stimò niente e continuò a fare il fatto suo. Un letto sfatto a doppio materasso al centro di una sala buia dal soffitto fogli con riportate delle frasi del processo luci rosse a evocare il sangue della violenza. A tutte le ore si vede la sua carrozza circondata dai suoi domestici manutengoli in livrea, mentre il presidente del Consiglio d'Italia fa l'ufficio di agente in suo favore, senza che alcuno abbia l'ardire di aprir bocca per non disgustarlo.